Sì, grazie Presidente. Siamo di fronte a, come diceva lo stesso Presidente, una discussione su uno dei temi più importanti per una realtà istituzionale, quello della legge elettorale, ovvero del meccanismo che consente ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti all'interno dell'istituzione stessa. Se ne discuteva da parecchio tempo, ha ragione il collega Casalino nel sottolineare che la loro proposta di legge era arrivata già da tempo. Sottolineo a mia volta che l'ipotesi di modifica puntuale riguardo l'introduzione della doppia preferenza di genere da parte del Partito Democratico era stata proposta addirittura a inizio legislatura. Quindi siamo di fronte a una discussione sicuramente tardiva perché arrivare a fine legislatura, quasi per inerzia, alla necessità di intervenire sulla legge elettorale testimonia al fatto che non ci sia stata la volontà condivisa fin dall'inizio di legislatura di confrontarsi su questa che è una delle leggi fondamentali per la nostra istituzione. Una modifica tardiva però necessaria e quindi abbiamo ben volentieri collaborato all'interno del gruppo di lavoro e ci mettiamo anche quest'oggi nella piena disponibilità a raggiungere, se possibile, un esito condiviso anche unanime, che è quello che ci auguriamo nella seduta di oggi. Tra l'altro siamo di fronte all'attuale legge elettorale che da molti punti di vista è un po' contraddittoria sulla rappresentanza di genere perché ha introdotto, ma di questo poi ne parlerà più diffusamente la collega Valmaggi, aveva introdotto di fatto in lista una parità, una rappresentanza prossima al 50%, superando addirittura quel 60% che la legge nazionale suggeriva. Ma di fatto non aveva provveduto poi a introdurre anche quel meccanismo di ulteriore riequilibrio che è la doppia preferenza di genere che è l'oggetto principale della modifica, della proposta oggi per questa legge elettorale. Tra l'altro questa necessità di modifica, di introduzione della doppia preferenza di genere ci è sembrata nel corso della discussione del gruppo di lavoro più subita che condivisa fino in fondo. Ha fatto più la paura di possibili ricorsi della convinzione che questo strumento potesse essere effettivamente uno strumento di effettiva parità di accesso. Ma mi limito a questo, dicendo che questa modifica è fondamentale e guai se non l'avessimo introdotta all'interno di questa nostra legislatura. Lo diceva già poc'anzi la collega Cremonesi, una legge elettorale che ha una sua stabilità nel tempo assicura credibilità e assicura anche forza istituzionale. Questa nostra legge elettorale, al di là degli esiti che ha comportato, che ci hanno visti da quando è stata introdotta sempre sbattuti in minoranza, però è una legge elettorale che oggettivamente ha funzionato. E ha garantito stabilità e ha garantito anche forza di fatto a questa nostra istituzione regionale. I colleghi del Movimento 5 Stelle hanno proposto l'introduzione del doppio turno. A mia volta, come il collega Bruni, sottolineo che è una questione interessante, è una questione anche se vogliamo intrigante, ma difficile da discutere ora al termine della legislatura. Avremmo gradito una discussione anche in Commissione Seconda sulle proposte dei colleghi del 5 Stelle, eravamo anche disponibili a farla in tempi dovuti, e ora però, francamente, non possiamo accedere al sostegno degli emendamenti proposti dai 5 Stelle, così a fine legislatura. Disponibili però a prendere in considerazione nella prossima legislatura, per chi ci sarà, una riflessione più approfondita e anche distesa sulla legge elettorale. L'altra questione è la riduzione delle firme per poter presentare delle liste che non siano già rappresentate in Consiglio regionale. Abbiamo presentato un emendamento in questo senso, siamo assolutamente disponibili a ragionare su una convergenza anche sull'emendamento dei 5 Stelle, che dal punto di vista dell'applicabilità è più semplice. Ci preme però sottolineare come questa riduzione delle firme necessarie sia un segnale importante per promuovere la partecipazione e promuovere anche, se vogliamo, non solo simbolicamente, un riavvicinamento dell'istituzione ai cittadini, abbassando la soglia di accesso, soglia che è necessaria per questioni di rappresentatività, che per le liste già in Consiglio regionale non è necessario dimostrare, e quindi non siamo d'accordo con l'emendamento draconiano proposto dai 5 Stelle di eliminare la possibilità di non raccogliere le firme per chi è già rappresentato in Consiglio. Il tema quindi di questa diminuzione delle firme ci vede concordi. Invitiamo solo a verificare, ma questo lo faranno, anzi lo hanno già fatto probabilmente gli uffici del Consiglio, che l'ipotesi proposta dal Movimento 5 Stelle non ci ponga in qualche maniera in difficoltà perché ci mantiene legati alla legge 108 che potrebbe in qualche maniera causare una non stabilità poi di questa ipotesi di dimezzamento, per così come è scritta. Se però, dal punto di vista tecnico, avessimo delle rassicurazioni totali sul fatto che non c'è questo problema di legame con la legge nazionale, non avremmo difficoltà a convergere sull'emendamento dei 5 Stelle. Aggiungo solo un'ultima cosa riguardo l'emendamento numero 7 presentato dal collega Pedrazzini. Sull'incompatibilità possiamo discutere, ma non in sede di legge elettorale. Quindi, al di là dell'ammissibilità tecnica dell'emendamento, sono d'accordo con quanto sottolineava il collega Bruni, ovvero possiamo discuterne perché ci sono oggettivamente dei problemi logistici, pratici, per un assessore che rimane anche consigliere regionale, però facciamolo con più calma e facciamolo soprattutto andando davvero a ragionare in termini di incompatibilità senza creare diversificazioni di trattamento per quanto riguarda i soggetti dell'incompatibilità stessa. Quindi preannuncio che da parte nostra non ci sarà un voto favorevole per quanto riguarda l'emendamento proposto da Forza Italia. Detto questo, ringrazio coloro che hanno contribuito e anche e soprattutto gli uffici al raggiungimento di una proposta che mi pare equilibrata e auspico, da parte nostra sicuramente questo ci sarà, che ci possa essere un voto il più possibile condiviso e anche unanime perché dividersi a fine legislatura sulla legge elettorale ci parrebbe un brutto segnale per questa istituzione. Grazie.